Schizzano e preoccupano i contagi da coronavirus in Calabria, sono complessivamente 3.099, l'ultimo dato disponibile di 136 contagi in un giorno e rappresenta davvero il numero record. Intanto il dirigente del Dipartimento Sanità della Calabria, Antonio Belcastro, ha fatto sapere che il Commissario Nazionale per l'Emergenza, Arcuri, ha inviato 136 ventilatori polmonari. Le apparecchiature sono state così suddivise, 16 all'azienda ospedaliere di Cosenza, 21 a quella di Catanzaro, 14 al Mater Domini, 17 all'azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Per quanto riguarda gli ospedali, invece, 4 sono andati all'ASP di Catanzaro, 7 a Castrovillari, Corigliano Rossano, Crotone, 13 a Cetraro, 13 a Vibbo, 11 a Locri e 6 a Polistere. Strumenti necessari per attivare nuovi posti di terapia intensiva. Nelle scorse ore il virus è entrato a Germaneto proprio nel Dipartimento della Salute dove si è registrato un contagio. Ovviamente screening per tutto il personale. Intanto l'ASP Bruzia è preoccupata per i contagi a Spezzano della Siree Rovito dove si rischiano nuove zone rosse. Dal Cosentino a Regino il sindaco della città dello stretto Giuseppe Falcomatà si dice pronto ad applicare il coprifuoco serale chiudendo le vie e le piazze della Movida. Continua a salire il numero dei contagi anche nel Crotonese dove complessivamente i casi sono 24. Nelle ultime ore sono cresciuti i contagi ad Isola Capo Rizzuto dove, a detta dell'azienda sanitaria, non si esclude un focolaio. Qualche contagio sempre nel Crotonese, nel capoluogo e nei comuni di Rocca di Neto e Messorac. L'azienda sanitaria di Crotone ha comunicato intanto che sono risultati tutti negativi tamponi effettuati sui medici e su tutto il personale sanitario del reparto di oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio dove era risultata positiva una paziente chemioterapica. Il reparto è stato sanificato ed è tornato all'operatività.